Carissimi Giulia Riccardo, la scelta di unirvi a formare una famiglia prende con questo giorno un valore speciale e una carica nuova che vi accompagnerà nel vostro cammino di vita. Il vostro sì è colmo di grazia per i giorni di sole e di forza per i giorni che inevitabilmente saranno più duri. Non esiste una forza più grande che quella dell'amore. Oggi noi tutti assieme accogliamo questa nuova famiglia che nasce dalla sua azione d'amore e con grande affetto e grande riconoscenza al cielo per vedervi qui assieme felici da parte di tutti noi vi auguriamo buon cammino nella strada di vita assieme. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.